Incidente nel pomeriggio di venerdì 29 marzo intorno alle 17 in località Pramonico a Baldissero Canavese coinvolta una Fiat Punto condotta da una donna che per cause da accertare ha perso autonomamente il controllo della vettura finendo la soccorsa nel fossato lungo il muro di cinta di una casa a bordo i due figli della donna che insieme a lei non hanno riportato ferite gravi sul posto sono immediatamente giunti i vigili del fuoco di Ivrea di Rivarolo Canavese due ambulanze della croce rossa di Castellamonte e carabinieri della compagnia di Ivrea i tre occupanti della vettura sono state affidate alle cure dei sanitari e sono state trasferite all'ospedale di Ivrea per i dovuti accertamenti non sono in pericolo di vita nata